Allora Sara, un commento sulla tua bella gara? Devo dire che questa è una vittoria diversa rispetto al 400 perché ero rimasta un po' delusa però poi ho voluto tirar fuori la cattiveria perché sapevo di essermi allenata bene e questo tempo, soprattutto questo oro, vale veramente tanto È il risultato di tante fatiche perché comunque ti stai allenando in maniera incredibile da molto molto tempo Sì, esatto, poi le Olimpiadi non ci siamo nemmeno fermati perché comunque c'era la Isla, poi gli europei, il mondiale poi ho preso il Covid ovviamente che mi mancava però poi mi sono subito rimessa sotto con gli allenamenti per raggiungere gli obiettivi che era poi di venire agli assoluti e fare il meglio Certo, l'allenamento ha fatto la sua parte, forse anche mentalmente comunque eri molto determinata Sì, esatto, l'allenamento conta tanto ma soprattutto la testa e è quello che mi ha servito in questo The Gentle Mist è tirar fuori la cattiveria e mettere la mano davanti a tutto Beh, complimenti! Grazie mille, ciao!